io sono kissy oggi cari non c'è ma oggi faremo un programma di cucina oggi prepareremo una macedonia buona buona prendiamo questo e cominciamo cominciamo con un kiwi un limone l'acqua tira non c'è questa bella un'altra fatola quante fracole ho mille male buone un altro limone a mo sono astri anche questo non ho niente male dentro non c'è questa bella qua l'ananas è volato via l'altro pezzo qua e infine l'angoria ora la mettiamo nel frigo ed è finito il video ricordatevi di mettere un like ciao ci vediamo alla prossima puntata